Oggi continua il nostro percorso, un percorso iniziato nel mese di luglio quando abbiamo organizzato la passeggiata del cuore così intitolata per una raccolta fondi affinché ci siano dei defibrillatori pubblici in città. Il primo già è stato installato presso la geleteria di Adema, adesso questo è il secondo steppe e quindi oggi qui inauguriamo questo defibrillatore, un defibrillatore che serve per tutta la città e vogliamo anche in un certo modo rassicurare tutti i cittadini perché ci saranno delle persone formate affinché possano usare questo attrezzo, è molto semplice. Ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, questa iniziativa che è iniziata, ripeto, il giorno 26 e sta continuando fino adesso, dall'associazione PAM a Pomiglia Sport, Abilmente Uniti, l'associazione Teniamoci per Mano Onlus che oggi purtroppo non è qui con noi, si ringrazia anche l'amministrazione comunale, l'assessore spagnolo, l'assessore Monteleone, il presidente del consiglio, il vicepresidente per aver permesso di arrivare a questo. Un ringraziamento particolare ovviamente va sempre fatto a Gioacchino che è colui che ci ha permesso l'installazione in questo punto strategico delle città. Facciamo vedere nel momento in cui si apre lo sportello per prendere il defibrillatore cosa succede, perché questo è un defibrillatore allarmato, quindi iniziamo sin da subito a scoraggiare anche colui che ha intenzione di fare degli atti vandalici e da subito gli diciamo che è allarmato che nel giro di pochi minuti viene preso perché c'è un segnale GPS che segue l'apparecchio, quindi da questo punto di vista stiamo sicuri. Vedete, questo è un allarme, appena io lo stacco da qui si attiva un GPS, viene eseguita la macchina, quindi da subito scoraggiamo colui che ha intenzioni strane. È una macchina molto semplice, è un defibrillatore semotomatico, appena si accende ci dice tutto quello che dobbiamo fare. Ovviamente servono persone formate, ma li stiamo formando, in questa struttura, in questa pasticceria verranno formati due operatori, in zona verranno formati altri e a mano a mano cercheremo di coprire più gente possibile all'uso del defibrillatore. Come società sportiva la PAM ha dato il suo piccolo contributo e l'ha fatto molto ben volentieri, stante che sappiamo l'utilizzo che verrà fatto e che potrà servire, speriamo mai. Io come sportivo praticante e tutti i miei associati sanno cosa significa avere un defibrillatore alla portata delle vicinanze, dopo si può fare un po' di attività sportiva. E quindi siamo, ripeto ancora una volta, siamo stati felici di contribuire nel nostro piccolo. Il mio intervento è solo per ringraziare, perché vedere la realizzazione di un progetto nato l'estate scorso, questa è una cosa importante che non bisogna mai trascurare. E per noi sportivi, per noi che facciamo questo sport, questo diventa priorità assoluta quando dobbiamo essere presenti per un gesto di questo tipo. Io ringrazio chi mi sta ascoltando, ringrazio l'amico Dario Scaletta e un po' quelli che hanno dato vita a questo progetto. Io vorrei complimentarmi con voi perché questa iniziativa è veramente lodevole, è un grande gesto, è un grande dono a questa città. Io ringrazio invece tutte le associazioni sportive che oggi non sono presenti e anche le altre associazioni di volontariato che non sono potute venire. Perché la realizzazione di questo progetto è stata possibile perché finalmente in città c'è stata collaborazione tra le associazioni. Quindi tutti hanno partecipato, con Piego, con Tanto, con anche i singoli cittadini che hanno contribuito. Quindi l'unione di tutti è stata possibile, diciamo, di piazzare finalmente innanzitutto questi due defibrillatori. Vediamo se il progetto può continuare e riuscire a coprire altre zone della città. Poco fa ho ascoltato le parole che ha detto il prete durante comunque la benedizione dell'apparecchio dove ci invitava a sapere dire grazie a chi fa del bene. Io devo ringraziare tutte le associazioni che si sono adoperate, dalla Misericordia a tutte le attività commerciali insieme alla pasticceria Mangogna che oggi hanno comunque donato alla città di Masa del Vallo di alcuni importanti apparecchi che servono per salvaguardare la vita umana. Questo che sia d'esempio per tante altre attività della nostra città e che sia d'esempio anche per noi concittadini perché dobbiamo essere solidali con i fatti. Un altro obiettivo molto importante ha raggiunto la nostra città e siamo orgogliosi e onorati di essere qui presenti e ad inaugurare il secondo defibrillatore in consegna alla pasticceria Mangogna e sarà giustamente un motivo in più per dare un buon servizio alla nostra città. Questo spero che possa essere di buon esempio anche di poterlo anche divulgare soprattutto anche nelle scuole dove necessita per dare un buon servizio alle scuole e quindi permettere a tutti quanti di sapere e quindi di venire a conoscenza della necessità qualora ce ne fosse bisogno del defibrillatore. È una bella iniziativa questa di fornire in tanti punti strategici della nostra città è fornire un defibrillatore perché questo consente la possibilità di salvare delle vite umane e facciamo veramente un elogio all'Associazione della Misericordia che si sta interessando di dare questa opportunità ai nostri concittadini e ci auguriamo che questi esempi possano essere imitati e propagandati in tanti altri punti della nostra città. L'amministrazione si compiace e spera che si arricchisca sempre di più di buone opportunità che facciano gli interessi dei nostri concittadini. Oggi apprendo con estremo favore che un gruppo di cittadini, attività, associazioni hanno iniziato a collaborare nel senso giusto, nel senso che tutta la città si aspetta ovvero agire nel bene comune affinché questa città possa essere dotata di persone, di uomini e soprattutto di servizi che mancano e che sono essenziali per il mantenimento della salute e della vita in questo caso. Oggi grazie alla pasticceria Mangogna, alla Misericordia è stato installato due defibrillatori che i cittadini potranno soffrire all'occorrenza. Credo che sia un passo importante, sia un modello e un modo di partecipare e di cooperare da esportare in tutti gli ambiti della vita cittadina. Quindi complimenti alla Misericordia e complimenti alla pasticceria Mangogna.